Tensione alta tra Roma e il secondo governo libico di Tobruk, non riconosciuto dalla comunità internazionale, che si scaglia contro la riapertura dell'ambasciata italiana Tripoli, definendola una nuova occupazione. Immediata la risposta di Roma. Secondo fonti istituzionali, sentite da Lanza, il sedicente governo di Tobruk mira solo a creare tensioni attraverso strumentalizzazioni. Calma oggi per le strade della capitale, dopo il fallito golpe di ieri da parte di miliziani fedeli all'ex premier islamista Khali Gaguel, come conferma a TG2000 Roberto Costantini, autore di romanzi gialli di successo ambientati in Libia, dove ha vissuto fino a 18 anni. Io ho amici che vivono a Tripoli, con i quali ho parlato anche ieri, e mi assicurano che ieri è stata una giornata normalissima, e come è il caso nostro, siamo andati al lavoro, loro sono andati al lavoro, sono andati a fare la spesa, non c'era nulla per strada che denotasse una situazione particolarmente preoccupante dal punto di vista del cittadino normale. Quanto all'origine di tutta questa questione, inclusa adesso la protesta che avviene dalla parte di Tobruk sulla riapertura dell'ambasciata italiana, e questo nasce evidentemente da questioni che riguardano 50-60 anni fa, io ne ho scritto anche in uno dei miei gialli, proprio perché gli errori fatti allora adesso ci riportano ai problemi che abbiamo oggi, in particolare come italiani. Quali sono gli errori fatti in passato e ripetuti anche oggi? L'Italia ha fatto un duplice errore, nel senso che noi abbiamo fatto un accordo in cui gli italiani, una parte del governo italiano di allora, degli anni 69-70, quantomeno favorì l'ascesa di Gheddafio, non la contrastò minimamente. fece un accordo con un dittatore e va bene, ci può anche stare pragmaticamente, ma poi si dimenticò che questo era un dittatore e quindi per tanti anni abbiamo continuato a fare con Gheddafi delle cose che un paese onorevole non dovrebbe fare in quel modo, salvo poi nel momento in cui le cose sono cambiate andare a bombardarle e quindi trovarci oggi in una situazione in cui non siamo né carne né pesce.